Torna alla legalità il bar di Piazza Moro sequestrato tre anni fa alla criminalità organizzata barese, un esempio virtuoso di attività illecite recuperate e riutilizzate per fini pubblici. Al risultato si è giunti grazie al lavoro del Tribunale, del Comune e delle Ferrovie a Pulolucane. Qui l'inaugurazione del locale, 30 metri quadri con salette da 20 posti e il mantenimento delle 5 unità lavorative. L'esercizio era intestato alla Sebasta, società in amministrazione giudiziaria sottoposta a confisca preventiva. L'impegno del Tribunale di Bari è esattamente in questo senso, cioè evitare che le risorse che sono state con le attività delinquenziali sottratte al territorio barese, al territorio pugliese vengano poi portate fuori dal nostro territorio. Secondo me le nostre risorse devono rimanere qua. Sono piccoli segni che però se li mettiamo uno vicino all'altro servono a disegnare una linea che è una linea di demarcazione. Da questo lato stiamo noi che siamo quelli che lavorano per il bene e dall'altro lato ci sono loro. Per le Ferrovie a Pulolucane il Falcafè rappresenta un servizio aggiuntivo per oltre 3 milioni di utenti serviti ogni anno. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito in maniera fattiva all'apertura di questa attività. Questa apertura fa parte dei tanti progetti di riqualificazione di cui ci siamo appropriati in Ferrovie a Pulolucane. Proseguiremo con la riqualificazione del corso Italia nei prossimi mesi.